A questo punto chiamo in causa Tiziano Pesce, forum del terzo settore. Luca Pancalli prima diceva come molte associazioni sportive e dilettantistiche abbiano scelto la formula delle APS per organizzarsi. In questo c'è tutta la comunione e la colleganza, la continuità dei due mondi. Grazie, grazie dottoressa De Cesari, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie alla fondazione Terzius per aver organizzato questo importantissimo momento di approfondimento e lo abbiamo compreso già dalle prime battute. Un ringraziamento particolare al Presidente Bobba, grazie Luigi, all'Avvocato Seppio, al Segretario Generale di Terzius, grazie Gabriele. Ma intanto partirei, mi consentirete una battuta. Io credo che sia oltremodo importante ritrovarci oggi qua. Abbiamo sentito l'introduzione, come sempre molto vivace, del Presidente del CONI Malagò. Già il titolo di questo nostro appuntamento di oggi, la riforma dello sport e del Terzo Settore. Non era così scontato qualche tempo fa trovarci qua. Citavo prima nel ringraziarlo l'Avvocato Seppio, ovviamente sono qua in rappresentanza del Forum del Terzo Settore, ovviamente vi porto i saluti della portavoce Vanessa Pallucchi, del Comitato Esecutivo che rappresento, ma mi prendo questa licenza, visto che proprio il Presidente Malagò ricordava la mia presidenza dell'UISP. Era la primavera del 2019, l'Associazione andava ad Assemblea Congressuale per cogliere le opportunità, le responsabilità nuove del Codice del Terzo Settore, quindi doveva modificare lo Statuto. All'Assemblea poi del luglio, che arrivava in coda alle assemblee territoriali e regionali, partecipò proprio tra gli altri l'Avvocato Seppio, e avevamo dato un titolo, come dire, per noi, noi ne eravamo convinti, poteva essere all'epoca un po' provocatorio, lo sport e terzo settore. Tra l'altro un'assemblea, Gabriele, che arrivava qualche mese dopo la pubblicazione, e colgo l'occasione quindi per salutare il direttore scientifico di Fondazione Terzius, il professor Antonio Fici, con una pubblicazione proprio su sport e terzo settore, che andava, come dire, a togliere, iniziava a togliere ogni dubbio sulla compatibilità fra il sistema sportivo tradizionale e quello del terzo settore. Di strada, come dire, sono passati quattro anni, i tempi, come dire, nel nostro Paese non sono mai velocissimi, però credo che di strada ne sia stata fatta tanta, proprio nella direzione che tratteggiava Dottoressa De Cesari. Sottotitola, novità, criticità, alla vigilia dell'entrata in vigore. C'è sicuramente un tema da attenzionare, che è quello del lavoro sportivo. Arriviamo al primo luglio, ricordiamo anche già attraverso il rinvio di un mille proroghe, su questo il Ministro per lo Sport e i Giovani, con cui abbiamo un'ottima interlocuzione, sia come terzo settore che come enti di promozione sportiva, in più occasioni, anche nel recente incontro con gli enti di promozione sportiva, ha dire ulteriormente, ecco, dichiarato che non ci saranno proroghe. C'è un tema legato alle giuste tutele. L'associazionismo sportivo chiede da tempo di arrivare alle giuste tutele per lavoratori e lavoratrici. Abbiamo più volte sottolineato quanto, come dire, questo sia un primo, diciamo sicuramente non un punto di arrivo, un punto, diciamo così, importante di un percorso, perché se pensiamo alle collaborazioni coordinate e continuative, al tema della previdenza, al futuro di un assegno pensionistico, diciamo i risultati sono ancora sicuramente distanti, però arrivano tutele importanti dal punto di vista assistenziale. E su questo ovviamente l'occasione oggi è ghiotta per richiamare il legislatore, visti sicuramente i tempi non molto lunghi, di avere quanto prima tutte le indicazioni che mettano nelle condizioni gli organismi sportivi, ma soprattutto le associazioni, le società sportive delle tantistiche, i loro dirigenti, i loro tecnici, i loro volontari, nelle condizioni di sapere come si attiveranno i percorsi e delle collaborazioni sportive. Su questo apro e chiudo velocemente una parentesi legata anche un po' all'attualità delle scorse settimane, quindi l'anticipazione che le semplificazioni che sono state ottenute nel decreto 36 per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie agli istituti, all'istituto di previdenza, all'Inail e ovviamente ai centri provinciali per l'impiego potessero essere in qualche modo cancellate, superate. Io credo che qua ci sia veramente tanto di quello che le nostre associazioni potranno continuare a fare, operare, perché credo che l'eliminazione di queste semplificazioni comporterebbe un danno, come dire, un impatto, ecco per così dire meglio, maggiore di quello che sarà l'onere, ovviamente, aggiuntivo per la previdenza. Diceva bene, ASD-APS, quella è, diciamola, sicuramente all'interno ecco degli enti di terzo settore, la fattispecie giuridica più, come dire, consona, ecco, alle associazioni sportive dilettantistiche, sarò velocissimo perché lo ringrazio come spesso accade, il Presidente Pancalli ha già parlato molto di terzo settore, ovviamente un terzo settore che è un'infrastrutturazione sociale importante, che si occupa di inclusione, di coesione delle nostre comunità, che si occupa di benessere, di promozione della salute, diciamo, di welfare all'interno di una sussidiarietà con le istituzioni, le istituzioni pubbliche. Un forum del terzo settore, ecco, do solo queste coordinate per i pochi che non conoscessero questo organismo unitario di rappresentanza, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riconosciuto, ha confermato anche ultimamente come essere appunto l'associazione di enti del terzo settore maggiormente rappresentativa sul territorio in ragione del numero degli enti aderenti. Il forum rappresenta ad oggi circa 100 organizzazioni di terzo settore, nazionali, quindi di secondo e di terzo livello, per un totale di oltre 158 mila sedi territoriali. Ovviamente si occupa di associazionismo di promozione sociale, di associazionismo di volontariato, di cooperazione sociale, sino anche ovviamente alla solidarità internazionale e al commercio eco e solidale. Ecco, io una sottolineatura, visto che all'interno del forum, tra l'altro per quanto riguarda le reti associative che oggi sono riconosciute dal Ministero come appunto reti che possono operare sul territorio, su 32, non vorrei ecco dimenticare i numeri, però direi su 32 reti 8 sono rappresentate da associazioni di promozione sociale nazionali che sono anche enti di promozione sportiva. Quindi c'è quest'ulteriore elemento proprio in termini di opportunità ovviamente di maggior responsabilità degli organismi. Sollicitazioni sarebbero tante ma vado velocemente a chiudere sottolineando proprio il tema delle semplificazioni. Lo ricordava il Presidente Malagò la riforma del sistema sportivo parte dalla legge delega 86 del 2019 e quella delega fissava fissa proprio come obiettivo l'assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport. Quindi sulla sostenibilità ovviamente c'è tutto un tema importante di accompagnamento se pensiamo al lavoro sportivo agli oneri quindi accompagnamento ai lavoratori e lavoratrici accompagnamento sostegno alle associazioni e alle società sportive senza dimenticare un altro principio fissato dalla stessa legge delega secondo me importantissimo quello del riconoscimento proprio del principio della specificità dello sport e poi ci sarebbero sicuramente tante altre cose da dire sul registro per quello che diceva il Presidente Pancalli credo che sia giunto il momento anche di andare oltre diciamo quello che è il palinsesto delle discipline sportive ammissibili riconosciute dal CONI proprio perché in quella lettera T dell'articolo 5 del codice del terzo settore le attività sportive delle tantistiche sono ben fissate e chiudo davvero con come dire un appunto ma sicuramente i professionisti i grandi professionisti relatori che avremo modo di ascoltare diciamo nel secondo panel sono sicuro che ci entreranno sempre sul tema dell'attualità del decreto 36 il tema dell'IRAP il tema di una migliore definizione delle collaborazioni autonome l'attenzione a tutte quelle figure che sono indispensabili per la nostra pratica sportiva anche di base anche amatoriale arbitri, giudici e poi tutto il tema legato alla tutela della salute per noi ovviamente importantissimo ma tutto il tema legato sulla sicurezza sui controlli sanitari dei lavoratori sull'inserimento della qualifica dell'idoneità alla mansione ove non riferita all'attività sportiva l'introduzione della scadia sanitaria quindi altre situazioni su cui ci vorrà dovrà essere fatta fatta chiarezza per sostenere sostenere al meglio gli operatori del territorio che dal punto di vista della rappresentanza del forum ma anche rispetto ai dati recenti dell'Istat sono un terzo le organizzazioni sportive non profite rappresentano un terzo delle istituzioni non profite del paese quindi veramente c'è da porre massima massima attenzione perché io credo che sulla sulla messa a terra della riforma del sistema sportivo veramente passi il futuro del terzo settore di questo paese grazie 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 mille Tiziano Pesce grazie mille grazie mille